Ciao ragazzi e ragazze, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter. Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete sempre in omaggio un paio di calzini e il codice accumulabile con tutte le iniziative in corso su Pumpling. È riutilizzabile tutte le volte che vorrete. Sempre in info box trovate anche il link alla mia vetrina Amazon, dove troverete una selezione di prodotti scelti da me, tutti a tema Harry Potter e di altri fandom. E naturalmente acquistando tramite uno dei miei link qualsiasi cosa, anche non presente nella mia vetrina, aiuterete il canale a sostenersi perché Amazon mi riconoscerà una piccolissima percentuale. Detto questo, ragazzi, io direi di cominciare. È oggi unboxing super potteriano perché ho due pacchi che mi sono stati inviati e di cui io non conosco il contenuto. Questi pacchi mi sono stati inviati da Giorgia e da Claudia. Claudia, che trovate su Instagram come Rainbow Lab, vi lascio sotto il suo contatto, e Giorgia, che trovate come Gisa Graphics, sempre su Instagram. Ovviamente mi sono appuntato tutto qui sulle scatole perché la mia memoria fa davvero schifo. E, ragazzi, detto questo, naturalmente si tratta di due creative, di due artiste del mondo di Harry Potter. Appassionatissime entrambe del mondo di Harry Potter. Mi hanno inviato le loro creazioni e alla fine ci sarà anche una sorpresa, una super chicca. Quindi guardate il video fino alla fine. Io direi di cominciare da questo, che è il pacchetto che mi ha inviato Giorgia. Giorgia è una super super fan di Harry Potter e del mondo magico ed ha deciso di fondere le sue due passioni, quella dell'arte e quella di Harry Potter. E si dedica a realizzare delle stampe di suoi disegni originali fatti a matita e acquerello. E, ragazzi, sono bellissime. Io le ho viste su Instagram e sono davvero fenomenali. E, ovviamente, esistono diverse versioni di queste stampe. Alcune realizzate su una carta premium garantita 100 anni, super super belle. E le versioni più piccole, in formato A5, che invece sono stampate su una carta che viene nobilitata con una finitura oro. Quelle in formato A5 sono quelle che mi ha inviato, mi ha detto questa cosa, me l'ha detta in anticipo. E, in tutti i suoi ordini, lei inserisce sempre un piccolo omaggino. Quindi andiamo a scoprire tutto. Wow, ragazzi, il pacchetto è fenomenale. Lei mi aveva detto che metteva una cura pazzesca anche nel packaging. E, ragazzi, guardate quanto è bello questo pacchetto. E questa carta è fantastica. È una carta azzurrina. E abbiamo tantissimi adesivi. Abbiamo anche un timbro in celalacca con scritto handmade. E poi abbiamo anche questa chiavetta volante che, ragazzi, andrà a finire di corsa sul mio albero di Natale. Io non ho chiavi volanti nel mio albero e quindi questo omaggino qui attaccato sul pacco assolutamente andrà a finire sul mio albero. Davvero bellissima, carinissima e bellissimo anche il pacchetto. Anche in questo caso, come vi ho detto nel video precedente, ragazzi, pacchetto perfetto per finire sotto l'albero di Natale. Sotto un albero di Natale soprattutto a tema Harry Potter. Io quest'anno mi aspetto le foto dei vostri alberi di Natale a tema Harry Potter. E, ragazzi, adesso dobbiamo andare ad aprirlo. E, come al solito, mi piange un po' il cuore, ma va fatto. Quindi, tiriamo il nostro spago. Ok, ci siamo. Ecco qui, liberato dallo spago. Andiamo ad aprire la nostra carta. Ed ecco qui le nostre stampe di altissima qualità. Ragazzi, sono bellissime. Per cominciare, ragazzi, sto vedendo una cosa che non era prevista. E mi ha inserito anche un segnalibro che è la fine del mondo, ragazzi. E' bellissimo. E' un segnalibro con la veduta di Hogwarts. Ed è bellissimo. E' magnifico. Adesso ve lo mostro meglio. Addirittura ce ne sono ben due. Abbiamo un segnalibro con Edvige che tiene la lettera nel becco. E poi abbiamo questo traforato con Hogwarts. Ragazzi, sono bellissimi. E sono stampati su delle carte particolari. Questa è una carta molto spessa. Mentre questo Edvige sembra stampato addirittura su tela. Sembra una tela cerata. Quindi, ragazzi, fantastico. Bellissimo, grazie mille. E poi abbiamo le nostre stampe. Che adesso vi andrò a mostrare tutte nel dettaglio. Ce ne sono tantissime in questa bustina. E sono super, super, super contento. E vediamo cosa c'è. Non vorrei rovinarle. Sono delicatissime, ovviamente. Ok, le ho tirate fuori. E cominciamo dalla prima. Che è questa qui. Che vede, ritratta Hogwarts. Abbiamo Hogwarts, tutta la veduta insieme del castello. E poi abbiamo in alto la citazione Hogwarts is my home. Hogwarts è la mia casa. E poi abbiamo tutte queste stelline in oro. Che spero si riescano a vedere bene dalla videocamera. È davvero molto, molto bella. E poi abbiamo anche quest'altra che invece ritrae la tana. Guardate quanto è bella questa tana. Tutte le stampe sono firmate qui in basso. E quindi questa è una piccola chicca. Molto, molto bella anche questa cosa. E poi anche qui abbiamo questi angoli in oro e tutte le stelline. E poi anche qui abbiamo una frase. E c'è scritto It's not much, but it's home. È anche questa citazione di Ron. Molto, molto bella. E poi questa che quando l'ho vista su Instagram sono impazzito. Devo dire che tra le mie preferite abbiamo questa qui con il carretto. Un carretto di dolciumi di Mielandia. Di Honeydukes. E ragazzi guardate quanto è bello. Io lo trovo davvero assurdo. Questo lo appenderò assolutamente in camera insieme a quello che vi farò vedere tra poco. Questo lo trovo bellissimo. Mi dà davvero una sensazione magica. Davvero bellissimo. E la stessa sensazione mi viene data anche da questa qui. Guardate quanto è bella questa stampa. Secondo me sono assolutamente da incorniciare e da appendere perché sono bellissime. Abbiamo la vetrata del bagno dei prefetti dove c'è la sirena nella vetrata. E ragazzi guardate quanto sono belle anche queste bolle qui in basso. Tutte queste stelline attorno. È davvero bravissima. Giorgia sei davvero bravissima. Lei si chiama Giorgia Sardella. E ragazzi come vi dicevo la trovate su Instagram. Vi lascio sotto il riferimento all'account. Come Gisa Graphics. Ma andate sotto e troverete tutto. Questa e questa qui. Devo dire che mi fanno proprio impazzire. Sono meravigliose. E poi ancora un'altra bellissima. Che è questa qui con la mandragora. Guardate quanto è bella anche questa. Con queste foglioline in oro. Queste qui in bianco e nero fatte a matita con questi dettagli in oro. Mi sanno tanto di autunno. Mi sanno davvero tanto di mondo magico. Di zucca. Di cioccolata calda. E di parete tappezzata da queste stampe. Davvero bellissima. E poi infine un'altra dedicata ad animali fantastici. È anche questa bellissima ragazzi. Guardate questo snaso. Questo snaso con questi inserti in oro. Con le monetine nella tasca davanti. Nel marsupio. E poi la monetina in mano. E tutte quelle che cadono dal cielo. È davvero di una bellezza sconcertante. Sono davvero tutte bellissime. E non vedo l'ora di dargli una degna collocazione in casa mia. Davvero davvero bellissimi. Grazie, grazie mille. E adesso vi faccio vedere anche l'altro pacchetto. Eccolo qui ragazzi il pacchetto di Claudia. Che come vi dicevo ha una pagina Instagram. La trovate sotto l'info box Rainbow Blub. E lei invece si dedica a delle creazioni più manuali. Più artigianali. Ecco delle creazioni che spaziano dalla torta di Harry di compleanno bellissima. Alla torta di Zia Petunia. Che io dovrò assolutamente ordinare in diverse misure. E poi anche pozioni magiche. Decorazioni per l'albero di Natale. Lei davvero fa tantissime cose molto molto belle. Anche queste in vista del Natale ragazzi. Non fatevele scappare. E mi ha inviato questo pacchetto. Con all'interno non so assolutamente cosa troverò. Quindi con all'interno un bel punto interrogativo. E vediamo un po' insieme. Apriamo il pacco. Uh anche lei. Il packaging è molto molto bello. Ma ragazzi sono fantastici. Cioè voi immaginate. Immaginate di riempire un albero di Natale. Con questi pacchetti. Che sono bellissimi. Sono bellissimi. Guardate qui. Cioè immaginate sotto il vostro albero di Natale. O quello di un vostro amico, amica, amante. Quello che vi pare. Questi pacchi sotto l'albero di Natale. Con una piuma qui di civetta. Con i timbri in ceralacca. Con il nome del destinatario. Sono davvero bellissimi da vedere. Io quest'anno per Natale voglio assolutamente acquistare tutta roba di questo tipo. Tutta roba creata a mano da artigiani. Da artisti creativi. Che mettono una cura nei dettagli. Che ragazzi parliamoci chiaro. Nei negozi o su Amazon. Non troveremo mai. Quindi super super bello. Anche in questo caso. Mi dispiace un casino. Dover aprire il pacchetto. Ma mi tocca. E non vedo l'ora di scoprire cosa c'è all'interno. Se già l'esterno è così fantastico. Così bellissimo. Non ho assolutamente idea di cosa potrei trovare all'interno. Quindi vediamo un po'. Ci siamo quasi. Sono curioso come una scimmia. Allora. Vedo già delle cose color rosa. Color rosa. Color umbridge. Quindi mi sa che c'è qualcosa che ha a che fare con la umbridge. E vediamo un po'. Bellissimo ragazzi. Questo. Anche questo. Finisce sul mio albero di Natale. Guardate quanto è bello. I piattini della professoressa Umbridge. Con questo fiocco super rosa. Vanno assolutamente sul mio albero di Natale. Ragazzi. Quest'anno seguitemi su Instagram. Antonio.seria. E naturalmente anche qui su YouTube. Perché anche quest'anno vi mostrerò il mio albero. Una volta terminato. Perché secondo me. Quest'anno darà grandi soddisfazioni. Bellissimi. Questi piattini. E poi vedo. Ci sono tantissime cose all'interno. Abbiamo un prop fantastico. Che non avevo assolutamente. Abbiamo la strillettera. Guardate quanto è bella questa strillettera. Questa non l'avevo. Finisce dritta in collezione. La busta chiusa della strillettera. Fantastica. Davvero fantastica. Super super bella. Ok. Si era un pochino ammaccata. Ma ok. L'abbiamo ripresa. Bellissima. Bellissima. E poi ancora cosa abbiamo? Abbiamo questo. Caro signor Porter. Siamo stati informati che l'è partecipato. Ok. Che l'è praticato l'incanto Patronus. Quindi questo è il biglietto del ministero della magia che informa Harry della sua trasgressione. Fantastico. Anche questo non lo avevo in collezione. E poi vedo ancora tantissime tantissime cose. Hai esagerato. Davvero una quantità pazzesca di cose. Guardate quanto è bello anche questo. Bellissimo. Il decreto. Questo è realizzato credo in resina. Si può appendere. Ma io credo che questo invece lo metterò in collezione. Perché ne ho già uno simile sull'albero. E quindi questo che è realizzato decisamente meglio. Credo che lo metterò in collezione. Bellissimo. Davvero bellissimo. Sono senza parole. E poi qui abbiamo un'altra serie di piattini. Oh. Differente da quella precedente che volevo mostrarvi. Guardate quanto sono belli. No. Vabbè. Sono bellissimi. E poi ancora qui c'è tantissima roba ragazzi. Tantissima roba. Questo cos'è? Non lo so. Vediamo cos'è. Cos'è? Quizzy Blush Cauldron Cake. Cosa sarà? Mai. Ho paura anche ad aprirlo. Non vorrei rovinare la confezione. Uh. Che profumo ragazzi. Che profumo. Che profumo. Guardate. Un calderone. Bellissimo. Bellissimo. Davvero molto molto bello. Ed è anche profumato. Ed è molto molto bello. Cauldron Cakes. Quindi una torta calderone. Quindi un dolce di Mielandia. Possiamo definirlo così. Ed è bellissimo. Davvero bellissimo. Credo che lo metterò esposto così in collezione. Sopra la sua scatoletta. Davvero. Della roba fantastica. Io quando ho visto il suo account l'ho subito contattata perché avevo visto che c'era davvero della roba fantastica. Io ragazzi ve lo dico sempre. Vengo contattato da tantissime persone. Ma raramente accetto di farmi mandare le cose. Perché se le cose che vengono fatte da quella persona non mi piacciono. Non riesco a farci un video. E invece preferisco cercare io le persone che ritengo facciano delle cose davvero belle. E che davvero valga la pena inserire nelle nostre collezioni. Quindi spero di aver sempre la vostra fiducia da questo punto di vista. E che vi fidiate del mio giudizio. Ma ragazzi qui c'è un'altra cosa che bramavo da davvero anni. E non avevo mai recuperato. Si tratta di questo che è l'aeroplanino del ministero della magia. Bellissimo. Davvero bellissimo. Guardate quanto è bello. Questi sono i promemoria che girano per il ministero della magia inglese negli ascensori. E che vanno da un piano all'altro. E ragazzi c'è bellissimo. Che ve lo dico a fare. Davvero super super bello. Abbiamo qui il suo adesivo, il suo sigillo. Abbiamo la punta in oro. Davvero anche questo fantastico. da aggiungere subito alla mia collezione. E non è ancora finita ragazzi. Abbiamo ancora un paio di cose. Abbiamo questo che è Merry Christmas. Al mio mago preferito. Ragazzi anche questa decorazione che finirà subito sul mio albero di Natale. Non vedo l'ora quest'anno di farlo. Spero di farlo magari anche a fine novembre. Perché mi sto trattenendo parecchio. Guardate quanto è bella. Questa decorazione è davvero bellissima. E ho visto che ce n'è anche un'altra. Altre due addirittura davvero mi ha iniziato. Tre. Oddio sono tantissime. Sono tantissime. E ragazzi alla fine c'è anche una bella bomba. Per voi. E abbiamo questo che è un cuoricino con la frase dopo tutto questo tempo sempre. Anche questo finirà ovviamente sull'albero. E poi abbiamo quest'altro che invece è una pozione magica. E poi quest'altra invece che è una decorazione con i tre fratelli e la morte. Io sono davvero in imbarazzo. Tantissime cose. Davvero tantissime. Tutte una più bella dell'altra. Sono senza parole. Hai arricchito tantissimo la mia collezione. E ragazzi. Ovviamente trovate i link sotto in info box. Come vi dicevo. Ma c'è qualcosa di più. Aspettate ragazzi. Colpo di scena sul fondo della scatola. C'era un omaggio extra. Quindi questo è un omaggio in più per te. Quindi significa che con i vostri ordini troverete in omaggio questa. Che è una chiave volante. Quindi un'altra chiave per il mio alberello. Quindi eccola qui. Non so se la metterò nell'alberello. O se la metterò forse in collezione. Forse anche in collezione. Visto che non ne ho. Potrebbe starci benissimo. Guardate quanto è bella questa chiave. Mi piace un sacco. E poi ho trovato anche questo. Che è un bigliettino. Con il timbro in ceralacca di Corvo Nero. Che è la mia casa. Perché effettivamente mi aveva chiesto. Quale fosse la mia casa. E vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo tutti i bigliettini di Rainbow Lab. Di Claudia. Ecco qui. Abbiamo il bigliettino. E poi abbiamo un biglietto che ci ricorda di condividere i nostri acquisti. Se ci farà piacere. E poi un bigliettino personalizzato per me. Un bigliettino di grazie. Con ciao Antonio. Un piacere per me aver conosciuto un altro Potterhead. Spero che apprezzerai le creazioni artigianali che ho selezionato per te. Un saluto Claudia Rainbow Lab. Ragazzi direi che le ho apprezzate. E anche parecchio tantissimo. Sono tutte cose molto molto belle. Anche le stampe di Georgia davvero bellissime. Ma ragazzi come vi dicevo. C'è ancora qualcosa in più. Questa volta davvero. Cosa dovrò mai dirvi. Ragazzi una cosa molto molto carina. Che è accaduta senza che fosse in programma. Quando ho contattato Georgia e Claudia le ho contattate separatamente. Perché avevo visto i loro lavori. E le avevo contattate. Poi in un modo o nell'altro hanno saputo che stavano entrambe collaborando con me. Col mio canale. E mi hanno ricontattato per dirmi che loro si conoscevano già. E che avevano dato il via a una nuova iniziativa. In poche parole Claudia e Georgia hanno creato delle box in collaborazione. Quindi troverete le stampe bellissime di Georgia all'interno di questa box. Delle stampe esclusive. E poi troverete anche i prodotti realizzati da Claudia. E sono delle box che chiameranno Wizard Box. E all'interno ci saranno dei prodotti tematici. Quindi ci saranno diverse tipologie di box. Ce ne saranno ben cinque tipi diversi. E avremo quella a tema Hogwarts. Poi avremo quella a tema Mielandia. Un'altra a tema Mystery. Quindi dove potete trovare qualsiasi cosa. E poi un'altra a tema Happy Birthday Harry. Quindi a tema compleanno di Harry. E poi una quinta a tema Weasley. Quindi ragazzi potrete scegliere una tra queste cinque box. E trovare al suo interno dei prodotti sia di Claudia sia di Georgia. Quindi con un unico acquisto potete trovare entrambi questi mondi. Io ve la straconsiglio perché entrambe hanno realizzato delle cose davvero super super belle. Super professionali. Che io assolutamente acquisterei per aggiungere la mia collezione. O anche per regalarli. Io vi ricordo sempre che tra un paio di settimane praticamente saremmo già in periodo natalizio. E quindi secondo me è già il momento di portarsi avanti anche con i regali di Natale. Potete fare un bell'ordine con tanti regalini per i vostri amici potteriani. E direi che sarete a posto. Io quest'anno mi sto muovendo con larghissimo anticipo. Di solito sono previdente. Infatti inizio a comprare i regali di Natale già verso metà ottobre. Ma quest'anno devo ammettere che ho già cominciato da qualche settimana a mettere da parte delle cose da regalare a Natale. Anche perché puoi comprare tutti i regali a dicembre diventa un salasso. Mentre invece avendo quei tre mesi di tempo si riesce a un po' diciamo sparpagliare la spesa. Un po' direzionarla. E male non fa. Ragazzi io davvero sono super contento. Fatemi sapere cosa ne pensate voi sotto in infobox. Trovate ovviamente tutti i link ai prodotti che vi ho mostrato. E ovviamente sosteniamo i creativi che si impegnano nel realizzare queste cose esclusive. E davvero molto molto belle. Detto questo ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti cosa vi è piaciuto di più. E ovviamente fatemi sapere su Instagram se farete degli ordini. Cosa avrete comprato. Mandatemi delle foto. Mandatemi dei video. Sono sempre super contento quando vi mostrate gli aggiornamenti delle vostre collezioni. E detto questo lasciate un mi piace. Commentate. Condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E seguitemi su Instagram per piacere. Antonio.seria E ragazzi detto questo io vi ringrazio ancora tantissimo per aver visto il video finale. alla fine. E noi ci vediamo a breve con tante altre novità. Ciao.